Se volete potrebbe essere riletto tutto come un manuale per farsi un esame di coscienza, cioè per comprendere come le nostre azioni in qualche modo hanno un effetto a lungo termine su noi stessi e soprattutto sugli altri, e come in fondo sia sempre un atto di giustizia riparare e spiare al malefatto. E quindi non c'è in qualche modo un perdono sincero senza anche una qualche forma di riparazione e di espiazione. Questo concetto, ricordate, la teologia cattolica lo esprime anche con una terminologia giuridica. Ogni nostro peccato non soltanto comporta una colpa, cioè appunto una responsabilità, ma comporta anche una pena, cioè la necessità di dover riparare effettivamente in qualche modo al malefatto. Buonasera e bella a tutti i prof. Io direi di cominciare subito con la lettura del testo di oggi. Allora, prendiamo la nostra penna per seguire, secondo la tradizione, senza toccare il testo. Allora, siamo al capitolo 42. Giacobbe venne a sapere che in Egitto c'era del grano. Così disse ai suoi figli, «Perché state a guardarvi l'un l'altro?» Ma egli rispose, «Il mio figlio non scenderà laggiù con voi, perché suo fratello è morto e questi è rimasto solo. Se gli capitasse qualche disgrazia lungo la strada che volete percorrere, voi fareste dolentemente scendere la mia canizie negli inferi». E termina così, in modo sospeso, questa pagina della Bibbia. Anzi, insomma, più di una pagina, questo capitolo di Genesi. Un episodio inserito ormai in un racconto continuativo, che scorre e che si collega, come vedete, con le pagine precedenti, che annuncia anche, ovviamente, degli sviluppi. Siamo di fronte a un evento chiave, decisivo. E forse, proprio fin qui, ci voleva portare fino adesso il narratore biblico. Uno dei meccanismi fondamentali della narrazione è proprio quello che abbiamo appena ascoltato, e cioè quella che si definisce anche l'ironia narrativa. L'ironia narrativa cerca di porre il personaggio, diciamo, in una posizione particolare rispetto all'ascoltatore della storia. Dico sempre ascoltatore e non lettore quando si parla della storia biblica, perché le storie bibliche, come quasi tutte le storie antiche, non erano fatte e pensate per essere, diciamo, lette privatamente. Sia il lettore, in realtà, il lettore, diciamo, quello privato, personale, in realtà leggeva sempre ad alta voce, ma questi testi, in realtà, proprio per loro intenzione, come abbiamo più volte detto, erano letti ad alta voce in un gruppo, in un pubblico più vasto. Perciò ogni dettaglio, diciamo, è fatto, ogni cadenza, anche musicale, della parola, è fatta per colpire la fantasia e la memoria dell'ascoltatore. Prima ancora che inventassero l'audiolibro, diciamo che tutti i libri, tranne per una poca elite di privilegiati, erano di fatto degli audiolibri. Cioè, quindi, si rivolgevano proprio all'udito, che, tra l'altro, come noi sappiamo oggi, è uno degli aspetti, diciamo, anche proprio del sistema nervoso, la sezione uditiva, che entra più profondamente nella nostra coscienza e che tocca più profondamente la nostra personalità. Questa constatazione era ben conosciuta anche in tempi non recenti, perché si diceva, insomma, che in qualche modo l'udito colpisse l'anima, la stessa parola di Dio, secondo San Paolo, non penetra attraverso la lettura, ma attraverso l'udito. Per questo, ascoltare era uno dei verbi fondamentali della spiritualità ebraica, resta uno dei verbi fondamentali dell'esperienza religiosa cristiana. Vi dicevo, l'ironia drammatica è un meccanismo narrativo che cerca di collocare in una posizione particolare l'ascoltatore, se vogliamo lettore, con il personaggio. Perché in certi momenti del racconto, il lettore conosce qualcosa, riceve un'informazione, ha ben chiaro a sé una situazione, che invece il personaggio nel racconto non ha. Quindi il fatto che il lettore, appunto l'ascoltatore, che è, diciamo, il fruitore, il pubblico di questa scena, conosca qualcosa che il personaggio non conosce, permette di osservare il personaggio in un'altra luce. E permette anche all'ascoltatore di entrare nella storia, di immedesimarsi invece nel personaggio che conosce. E qui il gioco è proprio questo. Giuseppe è consapevole che coloro che ha davanti a sé, che finalmente sono tornati davanti a lui, sono i suoi fratelli. E questa non è una cosa da poco. Mentre, al contrario, i fratelli sono completamente ignari, che coloro che hanno davanti non è un ufficiale egiziano, nonostante ne abbia tutte le apparenze, ne parli anche la lingua, come vedremo dopo. Ma si tratta proprio di loro fratello, di Giuseppe, che in questo momento la maggior parte di loro crede morto. Quello che c'è da sottolineare è proprio il gioco emotivo che questa pagina offre a noi, anche oggi, che la leggiamo, insomma, a distanza di millenni da quando è stata scritta. Un coinvolgimento emotivo che ci permette facilmente, ecco, di sentire e di provare quello che provano i personaggi, soprattutto quello che in questo momento Giuseppe può provare nel confronto i fratelli. Ovviamente si tratta di sentimenti contrastanti, perché quello che noi sappiamo in questo momento è che sono passati almeno vent'anni da quando Giuseppe è stato venduto dai fratelli, anche se esistono due versioni, no? Che sia stato o rapito dagli smeliti o venduto ai medianiti, ma, diciamo, nell'economia del racconto la cosa non cambia, perché il rapimento avviene dopo che Giuseppe era stato gettato in un pozzo, quindi con l'intenzione, insomma, di farlo morire lì. E questo non è una cosa da poco. Qualunque sia, diciamo, l'aggancio che c'è tra il motivo per cui Giuseppe è lì e i fratelli in quel momento, si tratta comunque di qualcosa di drammatico, di cui i fratelli sentono, dovrebbero sentire almeno fortemente, una responsabilità. E il corso del dialogo è decisamente molto interessante. Tutto parte da Giacobbe, che morì in prova dei suoi figli. E qui vediamo come i figli di Giacobbe non siano messi in una buona luce, sono rappresentati come inerti, come, diciamo, non capaci di prendere iniziativa. L'iniziativa è del padre che li rimprovera. Che cosa state a guardarvi l'un l'altro? Cioè, un giro di parole per dire perché restate inattivi. Insomma, volete morire qui per causa della carestia? Insomma, datevi da fare. E ho sentito che c'è del grano in Egitto. E questa è, come sapete, la rivelazione chiave, diciamo l'informazione chiave che dà inizio a questo racconto. Quindi i fratelli, dieci fratelli, perché uno, come sappiamo, è stato buttato in una cisterna e poi venduto o rapito, insomma, comunque, non c'è più. Sapete che questa assenza di Giuseppe è ulteriormente sottolineata drammaticamente dal fatto che i fratelli mentono al padre attraverso il famoso stratagemma della tunica insanguinata, della veste insanguinata. Quindi c'è sicuramente un crimine nascosto, un altro tipico, classico caso di crimine nascosto. Nascosto almeno non allo spettatore, non al lettore appunto, ma sicuramente al povero padre Giacobbe. Insomma, bisogna andare in Egitto per sopravvivere, perché non c'è da mangiare e non ci sono alternative che bussare alla porta dell'Egitto. Si vede però che, nonostante sia costretto ad affidarsi ai figli, perché si muovano a chiedere il pane, questi figli che vengono subito e immediatamente ritratti come un po' indolenti, un po' reattivi, del resto c'era anche un motivo per il quale in passato Giacobbe aveva preferito Giuseppe. E noi sappiamo anche che Giuseppe era un tipo che si faceva preferire, adesso non abbiamo la prova dal suo successo in Egitto. Il fatto che in questo momento di nuovo Giacobbe non voglia che vadano tutti i figli, cioè lui ha un desiderio di tenere accanto a sé Beniamino, sottolinea ancora di più la scarsa fiducia ormai. Diciamo che Giacobbe ripone nei suoi figli, che non gli capiti qualche disgrazia. Insomma, già me ne avete perso uno e figuriamoci anche Beniamino. Beniamino sarebbe veramente, veramente troppo. L'attaccamento speciale di Giacobbe a Beniamino, da una parte, e la pretesa di Giuseppe di rivedere Beniamino, che è il suo fratello della stessa madre, pone ovviamente i figli, tutti gli altri figli, quindi tutti gli altri fratelli di Giacobbe, in una tensione fra due posti. Cioè da una parte c'è appunto il padre che tira verso di sé Beniamino, dall'altra parte invece c'è Giuseppe che lo vuole lì presente a tutti i costi. La scena diventa estremamente drammatica quando i fratelli di fronte a Giuseppe sono incapaci di riconoscerlo. Questa incapacità di riconoscere qualcuno con cui erano vissuti tanto tempo, che era un loro consanguineo, ci dice quale sia stata la profonda trasformazione di Giuseppe. E in un orecchio cristiano allenato alle Sacre Scritture dovrebbe anche porre un altro richiamo, che ovviamente non riguarda tanto le esegesi di questo brano, ma l'interpretazione di questo brano in chiave cristiana. I discepoli incapaci di riconoscere il maestro che ritorna dalla morte è chiaramente un eco di questa pagina, anche se si tratta di una sfumatura, però è abbastanza evidente. Gesù subisce una profonda trasformazione dalla resurrezione. Questo passaggio attraverso la morte lo ha reso quello che è, cioè appunto il Redentore, il Salvatore, il Risorto. Gesù ha una sua identità che non è cambiata, ma chiaramente è stata profondamente trasformata dall'opera della glorificazione attraverso la resurrezione. Gesù ora è il Messia glorioso, non è più semplicemente il Gesù di prima, ora è il Cristo risorto, il Messia risorto. E quindi c'è la difficoltà dei discepoli a riconoscerlo. Qui c'è l'impossibilità da parte dei fratelli di Giuseppe di riconoscere in quest'uomo Giuseppe come avrebbero potuto loro lontanamente immaginare ciò che Dio ha operato dietro le quinte. Pure Giuseppe lo stesso. Il testo non ci dice che Giuseppe si sia truccato pesantemente o si sia nascosto, mascherato. Dice semplicemente che il suo atteggiamento è un atteggiamento da estraneo, da straniero. E capiremo dopo che il suo essere straniero è eseguito alla lettera. Cioè Giuseppe in questo momento interpreta una parte, proprio la parte del controllore dei territori, cioè del governatore, del faraone. E si rivolge a loro nella lingua egiziana, evidentemente, perché poi sapremo che parla attraverso un interprete. Quindi i fratelli qui fanno, diciamo, la figura delle persone veramente incapaci, ma a vari livelli. Cioè incapaci di risolvere il loro problema di sopravvivenza, perché hanno bisogno di Giacobbe che li scuoti. Incapaci di riconoscere il fratello. E ora vedremo fra poco anche resi incapaci dalla zavorra che portano nella loro coscienza di dire effettivamente la verità, aprirsi definitivamente sia a Giuseppe che a Giacobbe. Cioè loro in realtà nascondono qualcosa a Giuseppe perché nascondono la verità a se stessi. E la stessa cosa accade appunto con il loro padre. Cioè loro nascondere a se stessi qualcosa, cioè loro mettere da parte nella coscienza la colpa nei confronti del fratello li rende insinceri dall'una e dall'altra parte. Ma proprio questo, essere costretti, diciamo, a stare tra due fronti permette, vedremo, a questi fratelli di fare appunto un cammino di espiazione, un cammino di riparazione. Tuttavia c'è da dire che Giuseppe usa la mano pesante anche se con un tocco di stile come vedremo fra poco. Giuseppe accusa i fratelli che non sanno appunto di essere di fronte a Giuseppe perché Giuseppe vuole avere più informazioni possibile, vuole sapere come sta il fratello Beniamino, vuole sapere notizie su suo padre, vuole insomma mettere a paro vent'anni di lontananza da questi suoi fratelli. E il fatto che li ha lì davanti non viene, come in altre pagine della Bibbia, raccontato dal suo punto di vista interiore. La narrazione biblica non è una narrazione tipo psicologico, ma dall'interazione dei personaggi appunto possiamo comprendere o comunque immaginare che cosa Giuseppe possa provare. E a un certo punto viene detto apertamente, Giuseppe costringe i suoi fratelli a prendere una decisione. Voi siete spie, perciò io voglio conferma che quello che dite è vero. Portatemi anche, Beniamino. Questa cosa si ripete tre volte. Voi siete spie. Bene, lo dice più volte. Voi siete spie. Siamo gentonesti, i tuoi servi non sono spie. Poi lo dice una seconda volta. No, sono punti scoperti del territorio che siete venuti a vedere. Noi i tuoi servi siamo dodici fratelli, ecco il più piccolo. Adesso è con nostro padre e uno non c'è più. E qui, vedete, cominciano a venire fuori le informazioni. E tra l'altro il fatto che menzionino proprio che uno non c'è più, lì diventa particolarmente intensa l'ironia drammatica. La cosa sta come vi ho detto. Voi siete spie. Di nuovo torna la parola spia. Non uscirete di qui finché non sarà venuto il fratello più piccolo. E avanti, di nuovo. Altrimenti, come è vero, il faraone vive, voi siete spie. Questo fatto di ritornare su questa, cioè di continuare questa accusa e di avere una difesa, e il fatto che questo si ripeta più volte, anche questo, vedete, risuona nello stile ebraico del racconto che poi si riflette nello stile biblico che ritroviamo anche nel Vangelo di Giovanni quando appunto Gesù dice a Pietro ma Pietro mi ami tu? Questa domanda si ripeta più volte. Nel caso di Giuseppe non è una domanda, è un'accusa. Però nel caso del Vangelo di Giovanni Pietro percepisce questa domanda di Gesù come un'accusa che corrisponde, ricordate, al suo molteplice tradimento. Insomma, la proposta, l'imposizione, sarebbe meglio dire, di Giuseppe è molto chiara. Per dimostrare che voi non siete spie dovete portarmi Beniamino. Intanto, si fanno tre giorni di carcere e qui si vede anche un altro aspetto della logica del perdono. Mentre il perdono di un padre potrebbe essere un perdono incondizionato, infatti, oltre che nella parabola di figlio prodigo la prima mi viene in mente, la relazione tra fratelli che è uno dei grandi temi di Genesi. In realtà, diciamo, uno sviluppo più complesso. Giuseppe fa scontare in qualche modo ai fratelli quella loro ingiustizia. E per tre giorni, notate che sulla carta, in teoria, Giuseppe dovrebbe essere stato in prigione molto di più e sicuramente in esilio dalla sua terra per più di vent'anni e quindi il confronto è sempre, diciamo, abbastanza a favore di Giuseppe perché, capite, insomma, quello che lui ha sofferto e pagato non è lontanamente paragonabile ai tre giorni della prigione dei fratelli. Ma comunque quei tre giorni servono, nella logica del racconto, a giustificare perché a un certo momento questi fratelli cominciano a farsi un esame di coscienza. Cioè, cominciano a ritornare alla loro mente non soltanto le memorie di un passato in cui sono colpevoli, quindi il senso di colpa ma anche il senso della giustizia divina che in questo momento percepiscono come una giustizia che sta facendo effetto, si sta rivalendo su di loro. Come sapete, la Bibbia non ha il concetto del karma perché non c'è un rapporto causa-effetto immanente. Diciamo, la conseguenza diretta delle azioni produce una reazione da parte della realtà che prima o poi ci colpisce. Ma sicuramente c'è l'idea di un Dio giusto che non non te la fa passare liscia sempre. Non si può farla franca di fronte alla giustizia di Dio. E questi tre giorni in carcere servono, come vedremo, ai fratelli per riflettere profondamente. E quindi loro decidono, si dissero l'un l'altro, di certo siamo colpevoli verso nostro fratello. Loro non sanno che Giuseppe è il loro fratello e sono stati messi in carcere con un'accusa falsa, quella di essere ritenuti delle spie. Eppure la loro coscienza va all'accusa vera. Cioè sono persone che hanno tanti difetti, hanno tante colpe, si sono comportati in maniera terribile, però c'è ancora qualcosa che le rende salvabili. Cioè sono in grado di guardare nella loro coscienza. Cioè non sono stupidi. Per questo ci è venuto addosso questa angoscia. Cioè percepiscono che sono oggetto di una qualche punizione. Non è chiaro diciamo ancora che il legame sia il fratello stesso che in quel momento li sta di fatto punendo. Lo spettatore, o meglio l'ascoltatore in realtà lo sa, però loro ancora no. E quindi continuano tra loro questa discussione che li porta a pensare che loro in questo momento stanno scontando il sangue del loro stesso fratello. E il tocco straordinario dello scrittore biblico lo vediamo al versetto 23 che credo sia uno dei versetti più belli in assoluto della Bibbia di Genesi. Ora mentre questi tra loro si davano la colpa di aver ucciso Giuseppe essi non sapevano che Giuseppe li capiva perché tra di loro c'era l'interprete. Allora egli si appartò da loro e pianse. Quindi il pianto di Giuseppe è uno dei tocchi diciamo psicologici e drammatici più belli più intensi e più intensi della Bibbia perché non si dice il motivo per cui Giuseppe piange ma il fatto di vedere nei suoi fratelli e quindi di avere un ulteriore conferma che quelli sono veramente i suoi fratelli e riceverla così questa conferma e vedere anche l'effetto doloroso che sta creando in loro la sua la sua lontananza e il fatto che percepiscano ciò che li sta accadendo come qualcosa che meritano pur essendo una cosa terribile sono accusati di una cosa mortale essere spie è qualcosa che deve essere punita con la morte quindi loro temono per la loro vita cominciano a farsi un esame di coscienza esprimono sensi di colpa verso il fratello che ancora non è un vero e proprio pentimento ma sicuramente un primo passo e in tutto questo Giuseppe piange questo pianto può voler dire molte cose può voler dire amore nei confronti dei suoi fratelli può voler dire dolore per il tempo perduto dolore per la fraternità perduta dolore perché è lontananza dal padre dal fratello beniamino può avere tante spiegazioni questo pianto però alla fine questo pianto è qualcosa che proprio perché può avere molti motivi quindi avere molte sfumature molto colore può avere molti colori diversi da un punto di vista anche drammatico coinvolge anche noi cioè in questo momento anche noi siamo commossi insieme con Giuseppe almeno se siamo diciamo non siamo lettori di legno tornò e riprese a parlare con loro quindi si ricompone ritorna a fare il poliziotto cattivo prende Simeone lo fa incatenare sotto i loro occhi abbiamo come un suggerimento indiretto cioè qui Giuseppe comunque diciamo quasi di malavoglia si comporta così duramente ma sente che deve essere fatto mentre tratta male Simeone quindi lo umilia e umilia tutti gli altri di nascosto e questa è anche un'altra vedete tutto un gioco di dietro le quinte del non detto sempre l'ironia drammatica di nascosto mette appunto il denaro con cui avevano pagato il grano nel sacco di ciascuno dei suoi fratelli se ne vanno ignari insomma di fatto il grano era stato loro regalato e soltanto uno di loro se ne accorge tutti quanti stupiti di questo ma ancora inconsapevoli di essere stati tutti diciamo graziati dal fratello che non sanno ancora che è il fratello giunsero da Giacobbe e lì Giacobbe insomma non ci sta si arrabbia molto duramente usa parole terribili è colpa vostra se questo è accaduto se voi mi private dei miei figli no? è un'accusa cioè voi mi private dei miei figli Giuseppe non c'è più Simeone non c'è più e Beniamino me lo volete prendere quindi su di me tutto questo ricade cioè tutta la sventura tutto il dolore ma questo come potete immaginare è un'accusa cioè su di me ricade il dolore su di voi ricade la colpa di tutto questo vostro dolore voglio dire meglio Giacobbe in questo modo sta crescendo il senso di colpa e di responsabilità e tanto è vero che Ruben fa quest'offerta i miei due figli metterei a morte se non te lo riporterò quindi Ruben si mostra particolarmente generoso è ovviamente un'espressione per noi inconcepibile incomprensibile ma nel contesto drammatico di questa pagina sta a sottolineare come sia fondamentale questo scambio diciamo in funzione di una sopravvivenza quindi Ruben è disposto a sacrificare i propri figli per poter diciamo di avere indietro il proprio fratello che in questo caso sarebbe appunto Simeone quindi c'è vedete un paradosso assurdo ma ben costruito Giuseppe è stato venduto dai fratelli ed è stato in parte da loro dimenticato il fatto di essere accusati e di rischiare la vita fa di nuovo tornare a loro in mente il fratello Giuseppe nello stesso tempo il fratello Simeone viene appunto minacciato di essere trattenuto e quindi di morire e a questo punto addirittura per poter salvare il proprio fratello Simeone è disposto persino a sacrificare i propri figli che sono come capite il bene in assoluto più grande che un uomo può avere e ovviamente Giacobbe rifiuta e quindi si chiude qui questa pagina molto concitata il gioco diciamo interessante di questa pagina è come potrebbe essere anche riletta in funzione di un esame di coscienza ecco insomma nelle chiese cattoliche si fanno le liturgie penitenziali spesso nelle liturgie penitenziali si legge la parabola del figlio prodigo si leggono insomma altre pagine della Bibbia che sono un invito al pentimento però questo incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli che tornano per motivi di sopravvivenza a bussare la porta inconsapevolmente del loro stesso fratello se volete potrebbe essere riletto tutto come un manuale per farsi un esame di coscienza cioè per comprendere come le nostre azioni in qualche modo hanno un effetto a lungo termine su noi stessi e soprattutto sugli altri e come in fondo sia sempre un atto di giustizia riparare e spiare al malefatto e quindi non c'è in qualche modo un perdono sincero senza anche una qualche forma di riparazione e di espiazione questo concetto ricordate la teologia cattolica lo esprime anche con una terminologia giuridica ogni nostro peccato non soltanto comporta una colpa cioè appunto una responsabilità ma comporta anche una pena cioè la necessità di dover riparare effettivamente in qualche modo al malefatto perché il male è una realtà che diciamo perturba l'ordine delle cose e anche se in tutta la storia di Giuseppe vediamo Dio lavorare in tutti i modi per riaggiustare quest'ordine delle cose turbato dalla malizia dall'egoismo dalla invidia dei fratelli non di meno questi fratelli devono in qualche modo per potersi anche in fondo rendersi conto veramente della gravità di ciò che hanno fatto sperimentare su loro stessi sulla loro pelle che cosa significa veramente perdere un fratello che si ama essere disposti e scoprire che cosa veramente loro possono sono capaci di mettere in gioco a che cosa loro sono pronti a rinunciare per poter ristabilire la giustizia mancata e questo deve essere una riflessione valida ancora oggi non basta un processo di pentimento non basta il senso di colpa occorre anche che ci sia un atteggiamento costruttivo di quella che una volta appunto si diceva riparazione del malefatto e questo forse è qualcosa che dimentichiamo dimentichiamo perché siamo abituati forse a un perdono dato troppo gratuitamente nel senso che certamente il perdono evangelico è un perdono gratuito e incondizionato però questo non significa che ciascuno non debba fare la sua parte che ciascuno non debba fare poi la fatica di vincere se stesso di trasformare se stesso perché essere giustificati per grazia direbbe Paolo non è la stessa cosa che essere salvati non è la stessa cosa che essere trasformati profondamente da questa giustificazione cioè essere perdonati non equivale immediatamente a un cambiamento di vita il cambiamento di vita è ciò che si augura ci si aspetta dopo che appunto il perdono si è ricevuto e che questo perdono a volte richieda da parte nostra un atteggiamento di consapevolezza del male fatto e quindi la necessità di riparare al male fatto ci mette diciamo nell'atteggiamento giusto sì per ricevere il perdono gratuitamente ma soprattutto per poter ricostruire il bene che è stato distrutto per poter diciamo colmare con una scelta di vita con una novità di vita il male che ci lasciamo il male e il peccato che ci lasciamo alle spalle che ci lasciamo